Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con un'altra bella run di The Binding of Isaac qui con noi c'è sempre la nostra Chiara Virgilio che ci guiderà all'interno di questo inferno e siamo reduci da una run di quelle mondiali incredibili, per lo meno per i nostri standard per lo meno per i miei no no è fantastica uuuuh, vedi qui abbiamo sbloccato un pezzetto della Polaroid che? ci hai fatto caso che ogni volta che succede qualcosa di importante in Isaac cambia tutto i disegni eccetera ecco questo è il nostro caso abbiamo abbiamo mi sembra sconfitto Isaac l'ultima volta giusto? perfetto e quindi abbiamo sbloccato un pezzettino della Polaroid ok allora andiamo con una nuova run ah però guarda renditi conto ora Isaac non abbiamo ancora battuto il cuore di mamma ma abbiamo battuto Isaac è incredibile è la prima volta che vedo una cosa del genere comunque iniziamo e andiamo vogliamo provare Caino? no dai continuiamo con Isaac va bene continuiamo con Isaac così almeno magari questa volta ce la faremo ad arrivare al cuore si io entro dai iniziamo subito con Curso of the Lost bene sei un wrestler un wrestler? no questo no cos'è? questo è praticamente le lacrime girano intorno a te come se fosse un pianeta diciamo è una cosa che detesto ok e quindi non la prenderò mai nella vita ma proprio mai che palle però già iniziamo svantaggiati però vabbè svantaggiati semplicemente abbiamo trovato una cosa che non ci pia beh allora io vado no 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 moschette allora quello non lo prenderò perché non ce la farò mai a prenderlo c'è paura di perdere un cuore quindi esco via allora vediamo un po' cosa ci offre ovviamente è Curso of the Lost non so se ci siamo resi conto che abbiamo la mappa la mappa oscurata mannaggia la morticina uh le moschette bravissime belle le moschette belle ci piacciono abbiamo ben due cuori cuori bene presi potevamo aspettare magari potevano servirci più in là ma non fa niente abbiamo presi lo stesso ok perfetto allora questi i soliti banali moschetti allora dobbiamo impegnarci i banani moschetti i banani moschetti impegnarci ad arrivare a sto cacchio di cuore perché voglio farti vedere com'è è giusto ma è perché poi cambierà 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 tutto vabbè ma vaffan bagno chi ha eh allora quelli grigi non ti fanno niente quelli grigi no però questo questo qui deve morire perché sennò quelli grigi non se ne vanno e rompono tantissimo le palle ok sono sempre dell'idea che bisogna usarle le pillole bene ecco one makes you larger perfetto insomma diventa la più larga e sono inquartata come nella vita questo non mi ricordo che fa vabbè un trinket ok è un trinket non so bene quello che facciamo vedremo oh allora partiamo da una parte e finiamo da quell'altra e forse si riescono a colpire da qua no eh no no eh no si deve essere un po' udacue non è che stai attento eh vabbè però io sono una volpe ma c'è ah ti dà le moschette se vieni colpito il trinket bene ci viaggio cipiè cipiè oh dai però sostanze che durano sei anni caro io non so se ti sei reso conto per quanto non sono morta ah quella chiave lì non è la stessa non è vabbè non ci interessa andiamo avanti allora ah lì c'è una un mezzo soul heart ma va bene lo stesso ma ci va bene oh qui ce n'abbiamo levati 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 è rischiato tantissimo si due volte poi eh si proprio in rapida sequenza andiamo a vedere andiamo a vedere qui cosa c'è dacci qualcosa di ma manco per il cacchio questo non serve assolutamente a niente lì il charge quello serve più che altro quando hai l'oggetto attivo per ricaricarlo ma in questo momento non è che ci serva molto non ce l'abbiamo l'oggetto attivo ok siamo un po' chi è che ci tocca oggi pronto Gemini allora attento questo te segue quell'altro spara le pallette il gemello poi una volta che è morto questo qui questo qui che ci corre dietro il piccoletto si arrabbia tantissimo e ci insegue velocissimamente quindi ma se io stai a te ecco se io morissi per esempio eh si ho occupato del piccoletto eh si ci provo sempre se non faccio ecco qua cacchiate aiuto eh si è arrabbiato ah si infatti effettivamente è sempre meglio uccidere prima questo ma alla fine è innocuo basta capire come che si muove cacchietto cacchietto esatto basta capire come che si muove che ansia mamma mia no guarda quando c'ho il danno così basso mi urta proprio mi urta tantissimo ci metto troppo tempo eh vabbè attento eh perfetto abbiamo sbloccato un elemento nuovo molto bene quindi io sono diventato c'ho un cuore un soul heart in più e sono diventata la picciolina 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 molto bene allora io rientro ecco che carino come gremlin come gremlin morite male un gre no non c'ho le bombe cazzarola vabbè ma andiamo a cercare va attento ok andiamo a vedere cosa ci donerà io confidere in una small rock niente manco per il cacchio vabbè dai però perché così almeno ci aumentava un pochino il danno perché davvero mi da mi da quasi fastidio avere il danno così basso e vaffan bagno vaffan bagno non è da me allora noi non è cosa non c'entriamo per niente perché abbiamo pochi soldini che ci entriamo a fa ok giustamente vediamo qui la stanza grande è sempre una rottura di ansia una rottura di ansia una rottura di ansia non lo so per essere il titolo della puntata una rottura di ansia va bene dai il monstro ok un'altra chiave che essenzialmente non ci è molto utile a noi servirebbero più che altro le bombette le bombette che cosa sono quei mostri la prima volta che li vedo quelli sono utili perché possono anche fare danno agli altri colleghi che mettono ah vedi se ci avessi le bombe potrei oh allora questa è la stanza di bomba boss ci vogliamo provare va bene eh non ci abbiamo le bombe a mannaggia quella non la possiamo prendere perché perché non abbiamo le bombe a proposito di mosche eh sì oggi c'è anche una mosca che ci fa compagnia no 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 aiuto aiuto bravissimo che dribblaggio ragazzi manco Ronaldinho esatto allora Allora, l'altra chiave, ma non ce ne frega un cacchio delle chiavi. Ok, dai, ce la possiamo, ah questo qui è quello che respinge, non diventa nero, eccolo qui finalmente. Allora, andiamo a vedere cosa c'è nella stanza di... Eh, ma mi sa che c'è ancora un mostrino. Dove? Ah va, non l'avevo visto. Infatti non mi entrava. È una bomba. Perfetto, una bomba. Questo cos'era? Pugger Tears. Ah, sì, dovrebbero avvelenare i nemici in teoria. Ah, ogni tanto scappa fuori una lacrima... Esatto, caccolosa. Dovrebbero essere caccole quelle. Ok. O le avvelena oppure le rallenta, sinceramente non ricordo. Ah, andiamo a vedere cosa c'è in quest'altra stanza, magari c'è qualcosa di utile. Vallassapè. Vallass... Oh, dietro. Vallassapè. Invece secondo me c'è stato proprio un cacchio. Eh, vabbè. Eh, non ti preoccupare. Entra, entro. Quello che cos'era? Entra. Quello è sempre un altro trin... Perché sei un rapper? Un rapper pallido. Sei un Eminem. Un saluto a Eminem. Allora. Pronto? Pronto? Eh, quanta ruba. Eh. Sai che non sto capendo a cosa servono quelle cose? No, quelle... Eh, perché quando... Quando... Praticamente quando un mostro muore... Eh, le... Le rilascia e possono colpire altri mostri, mi sa. Dici? Sì, mi sa che è così... Io avevo del tutto sottovalutato questa cosa. Oh. Non mi sembra, però vabbè. Vabbè, poi dopo... Poi dopo ce lo andremo a vedere. Ok. Finito così. Allora, andiamo a vedere... Se c'è un qualcosa di utile nel negozio. C'abbiamo nove monete, magari c'è qualcosa in sconto. A sette monete andiamo a vedere. Che ne sa, valla a sapere, la vita. Ah, vabbè, c'è un solo arte, io me lo prenderei. Non sia mai. Ma perché no? Eh certo, così almeno abbiamo un paracaduto in più, no? Ok. Andiamo al monstro. Al monstriciattolo e passiamo anche questo livello. Oh, eh, vedi, sempre che abbiamo il danno molto basso. Vabbè, questo tu ricordi l'abbiamo fatto l'ultima volta. Ah, due puntate fa l'abbiamo trovato questo. Mi pare, non... Sì. E questo te lo... Questo è quello che lancia i buchi. E le bombe. Ok. Eee, fatto con Satana, molto be... Pillola. S-Down. Grazie. Grazie. Ah, niente. Che ci sarà qui dentro? Ah, insegue pure. Ah, è pure i ragnetti. Range Down. Eh, perfetto. Ah, proprio tutto ciò che di male poteva esistere. Vabbè, però perlomeno sappiamo quali sono le pillole dannose per questo livello. Non le prenderemo mai più per questo livello. Oh, andiamo qua. Oh, molto bene. Eh, sì. Wow. Questo in teoria... Sono bastardi questi. Questo in teoria dovrebbe essere più semplice. In teoria. Entra, entra. Entra. Ci abbiamo... Entra. Ah, questi te li ricordi, sono quelli che ti inseguono e poi, una volta sconfitti, si collassano. Ma io sono morto malamente di nuovo. Mi levano uno, questo. Puoi sempre rientrare. Ma stavi sempre con mezzo, mi pare. Vabbè, vabbè, ti lascio sconfiggere questi che... Ok. Molto bene. A posto. E questo è fatto. Ora rientro. Che cosa... No, sei bellissimo. No, che carino. Sono uno dei cosini di Pac-Man. Che carino. Beh, vabbè, ma... Sei un po' distratto. Ma no, ma che mi ha dato un millesimo di secondo per reagire. Meno male che c'è questo. Un gelo fatto. Meno male che c'è questo. Ok. Attento. Su. Ok. Retrovision. Ebbè. Oh, ma oggi proprio è la giornata delle pillole sfigate. Balbozo of Steel. Un health up. Niente. Qua dove sta? Ah. Ti avevo detto di qua. Allora tu, visto che sei avvantaggiato che puoi volare, puoi metterti in mezzo al buco? Ah, non piglia mai niente nessuno. Esatto. Sei molto avvantaggiato per questo. Peccato che tu non possa prendere le cose, altrimenti sarai molto felice. Eh, già. A parte che qua non è che ci sia tutta questa granché, eh. Potrebbe andare meglio. Effettivamente, fissi. Ah, io prenderei questa stanza un po' più piccola, però. Oddio, odio. Ok. Ah, questo ti dà le bombe, però mi piace questa cosetta che ti dà le moschette. Mi tengo questa, dai. Ah, questo è quello che corre, eh. Non lo so, devo capire che cosa è quella cosa. Ah, ma proprio il tuo di vita c'è due, proprio. Sì. Ok. Ah, cazzo. Allora, qua c'è un cuore? Cioè, mio. Subito, poi. Queste non troviamo di soul heart o un health up alla fine, eh. Eh, già. Cazzarola, stavo per succedere il disastro. Allora. Questo pipistrello grasso. Questo, guarda, questo lo detesto. Ci mette sei anni. C'è una quantità di HP incredibile. Oddio. Vio. Allora. Oh. Eh, no, vabbè. Devo trovare un soul heart. Devo trovare un soul heart. No, non puoi rientrare. Eh, sì. Eh, che cazzarola. C'è della morte. Allora, ho un cuore, ho un cuore, quel che sia. Andiamo alla ricerca. No. Adesso di pomerò abbastanza, non mi interessa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo un po' di qua. Ti pareva? Eh, beh, insomma, direi che ci siamo. No, ragazzi. Non posso perdere contro questo, eh. Non posso proprio, cioè. La mia religione me lo vieta. Ok. L'abbiamo quasi fatto. Se ce la faccio pure, prendi sto coso qua. Ovviamente, ma è una gioia. Andiamo avanti. Eh. Oh, ma mostri aggressivi oggi, eh. Per la miseria. Guarda. Guarda. Questa run non mi è piaciuta per niente. Basta. Eh, che bisogna fare? Purtroppo a volte... Un po' andare è sempre bene. Abbiamo fatto sempre una sì, una no, una sì. È vero, è vero. Secondo questa legge la prossima sarà... Incredibile. 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 Già. Esatto. Vabbè, ragazzi, ci riproviamo. Ci riproviamo la prossima volta, ragazzi. Questa run è andata un pochettino così. Che abbiamo sbloccato in questa run. Non mi ricordo più. Una cosa che sinceramente non immagino cosa possa essere. Non mi ricordo che cosa possa essere. Molto bene, molto bene. Non lo so. Vabbè, però qualcosa abbiamo sbloccato. Una run in cui si sblocca qualcosa non è mai una run buttata. No, no. Questo è vero. Anche perché siamo sempre all'inizio, dobbiamo sbloccare un sacco di cose. Poi farò vedere pure le challenge, farò vedere la grid mode e farò vedere un sacco di cose. Non so di che cosa ti stia parlando. Va bene. Ragazzi, direi che però... Per oggi è tutto. Noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel mi piace se questa run mega galattica vi è piaciuta. Beh, perdonatemi però. Stiamo portando The Binding of Isaac molto più spesso. Ultimamente mi sa tanto che... Continueremo così. Mi sa tanto di sì, almeno per adesso. Fino magari al punto persino di dargli uno slot settimanale dedicato, ragazzi. Ma proprio... Protagonista del mio tempo. Cheat. Basta. Vabbè. Bella per tutti. Ciao. Ciao.